ciao sono aurora fadel ho 17 anni e vengo da sandona di piave in provincia di venezia non avrei mai pensato di poter salire un giorno in questo palco ovviamente ci ho sempre sperato tantissimo e sono molto felice di essere qui ma ovviamente spero tantissimo di riuscire a passare tra i due quindi esibirmi poi a sanremo però sono anche super grata per essermi stato permesso di essere qui oggi insomma il mio brano si intitola profumo di lavanda e l'ho scritto io e poi è stato composto insieme al mio produttore agli osciarioli e sono molto felice di essere riuscita ad esprimere quello che ho espresso diciamo in questo brano cioè sentirsi esclusi e fuori da un gruppo quando però in realtà si sa di poter stare bene dentro in questo gruppo e appunto io dico profumo di lavanda perciò ascoltatemi io io posso essere come voi e credo che questo lo provino tanti ragazzi e quindi sono molto felice che sia stato capito un grande saluto da amadeus lo stimo tantissimo come presentatore l'ho sempre seguito e sono molto felice che che mi possa ascoltare grazie a tutti